per me ciao a tutti a gentuver siacchi tommy e questo qui è il primo episodio di batteri film in cui c'è anche tommy beh perchè non deve esserci perchè la volta scorso ho fatto un episodio senza di te ah scomento che sto studiando eh? no cosa stai facendo? comunque siamo a gran bazar questa è corsa e spero di fare lo scorso più decente della volta scorsa o cazzo all'idea comunque ragazzi stiamo abbiamo iniziato a giocare da due giorni per cui se non siamo ancora molto bravi se non sappiamo ancora tutto adesso sentite i messaggi ripetuti che Giulio ci sta inviando su skype ma non lo cagate abbiamo come arma un'arma che spara proiettili no che cos'è? non lo so perchè si è iniziato no non lo so c'è l'ha il geniere no soldato cos'è? è una k? vabbè è uguale lo vedremo dopo si e c'ho dei riflessi da bradipo in calore esatto dai vai muoviti sei vinto ecco uccidio quel bastardo però vai dio ma che l'ha di cazzo sei morto hai fatto partire il tempo te invece bravo stronzona non proprio ah no perchè tu mi hai dato il coso sbellato vabbè te potevi guardare vabbè dai potete anche essere boh siamo a 4 minuti adesso e 4 minuti? no è la balla hai ragione siamo a 2 minuti ehi ma neanche saremo un minuto vabbè allora inizio adesso vabbè benvenuti in un altro episodio non le tughiamo in diretta comunque per chi l'avesse sentito che oggi ah è vero oggi è una giornata un po' particolare perchè qui da noi c'è stato il terremoto si ci siamo presi veramente una paura fottuta ragazzi voi non avete idea stanotte che cazzo di paura abbiamo preso dai racconta intanto che io gioco ma voi cioè io stavo dormendo non mi avevo mica accorto di niente e così alle 4 sento che mi viene a svegliare dicendo che devi muovermi che devi andare in giardino e vedo gli altri che da in piedi e sta scendendo la scala la brutta piscina io mi ricordo benissimo la scena che lo so avevo la testa sotto le coperte e avevo la mano sotto il cuscino e ho sentito tutto il cuscino vibrare e un rumore brutto bastardo non è la grastabilità questo fucile e ho sentito tutto il tutto il cuscino vibrare poi ho visto la luce che c'è accesa e la mia mamma e la sua fama che correvano e dicevano che dovevano scendere è stato davvero preso davvero paura però che fortuna l'unico danno che ha subito la casa è stato i camini si sono rotti i camini sopra il tetto ma e vabbè e i soprammobili che sono venuti giù però ragazzi veramente cioè voi non avete idea quanto cazzo di paura abbiamo preso e poi il fatto non finiva perché continuavano ad esserci delle piccole scosse cioè hanno continuato anche adesso si è vero anche adesso se potrebbero mezz'oretta fa ne è arrivata una scossa di qualche secondo però potente come la prima no vabbè un po' di tempo fa potente come la prima ci è stata oggi all'inizio oggi pomeriggio e lì anche lì tanta cacca tanta cacca però comunque si cioè non è finita no intanto sto facendo un 2-4 scabroso ma va bene ma si impareremo assieme a voi ragazzi a giocare a questo gioco impareremo a camminare no a sparare perché essendo abituato con la mentalità di mother warfare io vado diretto l'obiettivo infatti che non devi quindi hai detto che bisogna solo collaborare quando c'è un cazzo quindi perfetto bisogna collaborare si è molto più di squadra quindi devi essere calmo devi avere sempre qualcuno che ti pare il culo e poi devi capire che se sei minoranza non devi buttarti ma ritirarti e non ti va adesso di sicuro però il muore e hai fatto un bel assist questo è un mattone e una testa LOL 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 voglio ricordare che da Sant'Agostino che è stato quel posto dove ci sono state quattro vittime cioè da qui a Sant'Agostino ci sono dieci chilometri sì cioè siamo attaccati proprio per dirvi siamo proprio attaccati all'epicentro infatti i paesini qui attorno a casa nostra cioè le chiese sono venute giù vabbè la chiesa qui del nostro paese è partito il campanile e una qua vicino ha perso tutta la facciata infatti la butteranno giù perché è rimasto più o meno come questo palazzo e allora ha un po' paura e fratto ci potrebbero essere altre scosse quindi adesso stanno pensando cosa fare se riuscire a dimolirla adesso in modo che non cada su le abitazioni però cioè tutto sommato siete anche fortunati ma sì siete stati fortunati perché se veniva domenica mattina tra cresime comunioni così erano la carneficina altro che altro beh sì la chiesa è crollata del tutto ci sono tutte le maestrie dentro oh cazzo ecco in questo è un unico moment in cui vedi che sei già morto infatti stiamo facendo un 2-6 scabrosetto scabrosetto quanto siamo? ma boh saremo saremo a 5 minuti no un po' di più forse good game cambiamo classe dai sì quindi questo è che livelli sblocchi non so se si sa mai che si fanno difficili se la situazione si fa difficile spari un lato sì se il gioco si fa duro i duri prendono l'rpg che non lo trovano eccolo qua se il gioco si fa duro è l'unico modo per superare questa che questo non so nella sua che c'è gira io prenderei tanto qui in base è abbastanza normale come ha fatto non uscire ah non ne ho idea questo lo uccide però beh non ci credo c'hanno uno scudo di adamanti davanti c'è uno scudo di adamanti oh grazie si tratta devo rifiutarlo oh grande beh però basta basta però non ci riesci a più perchè ci stai portando uno scuola all'alte no l'interno non ti contro la chile ah si no non penso non hai detto una grande cagata scusati no kiddo scuso per aver detto una cagata il cazzo di fucile ho preso perchè infatti non so la classe è benito preso sto sto perché ne ho preso la cosa sparate a colpi si sparate a colpi allora c'è un mirino fantasticamente ingombrante cos'è sta bomba perchè io continuo cioè stiamo sponando in questi metri quadrati ecco sta pieno finire la partita no ci stanno rubando un punto ecco io non so che cosa devi fare nella abilità corsa ma la abilità a riunirare riemano gioco di squadra adesso lucido ma non mi fega io ho fatto una rianimazione per fortuna acquaibati non conto molto loro il rapporto dad kill dad kill e spetta cosa mi ha sblocato facciamolo vedere a tutti un altro fucile evidentemente ma chi se ne frega ma chi se ne frega ma si cos'è ho preso un altro bocchino ma perchè ti ho chiesto di aver fucile in modo stupido inconsidera e sconsidera non devo stare qui all'aperto devo prendere posizione c'hanno un coso e c'è un caro armato danza tiraiolo giù oh grande medico cos'è questa cosa è la cosa oh cazzo cosa è un rpg è tipo un mortaio penso un po' lontano però not bad beh direi che possiamo fare il russore con questo direi che puoi anche mirare un attimo meglio adesso dimmi che tacca devo prendere oh cazzo è il mio lavoro devo rianimare si dai su bastardo no sono io il medico di famiglia lol voi tu non mi chiedere devo rianimare l'ho rianimato l'ho rianimato questo è l'importante quante minuti siamo? per me direi che è ora di staccare si si eh si ok dai quindi con la promessa che gentubers miglioreranno battlefield si impegneranno e miglioreranno grazie a voi cioè siamo costretti a giocare scriveteci dei consigli qua sotto perchè non sappiamo quanto dai dai adesso dire una battuta dai davvero non so cosa dire ho detto questa cosa ma credo che mi aiutasse anche te va bene mettete mi piace e commentate e scrivetevi per lo score due dieci due quante di animazioni eh infatti aspetta forse due tre dieci tre dieci oh idolo mina mina m15 mettete mi piace e commentate e iscrivetevi da gentubers è tutto yaki tommy è incredibile è finito proprio quando abbiamo sentito e la tua fazione ha vinto interrompi qui ecco no cazzo ci vediamo ci vediamo nel prossimo episodio ciao 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 ragazzi ciao 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 ciao